Un'altra cosa da non fare anche che non lo trovate scritto nel libretto dell'istruzione è proprio fare questo cioè di aprire il nostro boccale e magari portare via l'alimento con l'acciaio si potrebbe rovinare oppure di mettere all'interno del nostro boccale in cottura le stoviglie che abbiamo in casa non abbiamo bisogno di queste perché la nostra spatola ci aiuta per poter sia mescolare in cottura ma soprattutto anche se voglio portare via il prodotto quando ho terminato una cottura Anche per oggi spero di avervi dato qualche breve informazione utile quindi ciao e al prossimo video da Teresa e Belli Come Fare Ciao ciao!